cuore ho caricato un poco poco il telefono quindi non ho per farti il video capito non ho una una lunga carica perché ieri sera è successo un casino che non trovavo il caricabatteria comunque va bene dai buongiorno fratellino dai che oggi è un giorno in meno ok dai che poi restano oggi già giovedì venerdì e sabato abbiamo finito e due giorni veloci veloci vedrai che passeranno in maniera proprio rapidissima cerca di concentrarti in questi due giorni con tranquillità con regolarità con serenità soprattutto e niente te lo faccio breve breve così ti arrivo dopo te ne faccio un altro ok cuore ma vai a fare la stanza rossa e ci sentiamo ok cuore mio un bacio un cuore un abbraccio forte forte al mio fratello e ci sentiamo dopo quando finisco di caricare bene bene il telefono no ti ho fatto questo così puoi andare ok cuore dopo strada facendo ti faccio un altro ciao cuore mio dopo